Scusa per il ritardo Oh Carl, scusa per il ritardo Ho usato un po' di traffico Cameriere? 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 Sì, sì, lì, camminita La bianca, giacca Bella? Bella? Sì, un po' forca Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì, si Ma come sono, ma che maleducati in questo posto? Guarda, già mi hanno Già mi stanno nervosendo Allora, ci facciamo portare la lista Cameriere? 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 La lista? Cameriere? La lista? Sì, sì, cosa hai? La lista? La lista? La lista? Veloce? Sì, su, bravo, veloce Veloce Ma come sono maleducati in questo posto? Ah, no, no, non bisogna in mezzo Ma... Ci facciamo un pranzo a base di pesce Prego, scegli tu Vale, neanche la candela ci hanno acceso Cameriere? Cameriere? Eh, sì, sì, ancora lei, ancora lei, cosa è? La candela cosa? Non va accesa Non va accesa la candela Va bene, va bene, va bene Dai, dai 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 dai, dai 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 No, sceducano dai su fredda, so fredda C'ho fredda, so hredda, su Ma che me lo jeux K abbiamo detto Gli ho chiesto di dicendommi la candela e mi hanno dato all'accendere Aaaaaaaa Firma le tue case in questo posto Io non lo so veramente proprio Sono molto contento di essere qui Ma guarda questa frustrata come sporca Cameriere? 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 Sì, sì, cosa hai un pò? Qualca vuolta? Cosa vuoi? Dini! Dai 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 che devo dare dai 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 Le sembra pulita questa forchetta? Perfetta! Dai 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 dai! Su! Perfetto! Perfetto! Ma in questo posto sono... Vabbè allora cosa facciamo? Ordiniamo? Prendiamo qualcosa col pesce o con gli asparagi Una cosa di pesce? Dai 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 Il risotto è finito, ok? Il risotto è finito. Io volevo un primo. Non importa, è finito, è finito, non c'è più pasta, è finita, basta, i cannelloni sono finiti. Tutto finito, tutto finito. Volevamo una cena a base di... I lasagli non ci sono. Le lasagli, le chiedo, le chiedo... È finita, va bene? È finita. Ma insomma, ma le sembra... Il cliente ha sempre ragione, io non neanche gli ho chiesto e lei mi tratta così, ma che il posto è questo? Non posso affattare questo. Ah! Sì, 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 mangi, mangi. È bello questo posto. È bello questo posto, si mangia buono. È mangiato proprio bene. Il servizio qua è... Il servizio può più inviare. È molto bello. Cosa facciamo? Ordiniamo un conto e andiamo? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Tre vere. Cosa? Gentilmente il conto. Il conto, il conto è quello qua. Centomila lire, eccolo qua. Eccolo qua. Certo. Mi scusi, ma... Sì, 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 centomila lire, centomila lire perché lo dico non tutti trascendo questo accendino, porto nemmeno cosa, porto nemmeno colato. Anciacca di coppia, l'accento mila lire, dai, il coperto. Non abbiamo mangiato, non abbiamo mangiato... Non è importante, non ho fatto, vuole venire a parlare di là? No, 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 no. Ok, dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. 40 40 cento l'idea per qualsiasi se ci metto danni buona parla no per i miei ricordi quale buona parla per tutti tutti finito non c'è un ufficio non è mai non ti vuoi dire parla Dai, 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 dai Grazie a tutti.